ok vai 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 no ci sono prove anzi se le fa 3 anni posso fare la tua roba si si sa bellino ma vieni stai posendo il video bravo che c'è stata vedete nonostante che molte volte a rossa stella stella ma tu è reso ma tu hai fatto gioco a gioco a me facciamo 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 a giocare si vai 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 stai facendo la vita vai vai stella stella villina vai vieni 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 guarda ti stai la piti guarda anche le va dopo si dice ma ti stai la piti si mi facci invece la piti stella pietra Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.